Terra Madre, Salone del Gusto 2024, stand di Maestro del Gusto, siamo qui con Paolo Di Feo di Boutique Caffè, Maestro del Gusto dal 2018 Esatto, buongiorno Cosa ha portato alla vostra attività? Quale valore ha portato essere Maestro del Gusto? Maggiore visibilità, essere presenti nel mondo dei Maestro del Gusto è un riconoscimento che ci fa molto onore Riusciamo ad acquisire clienti nuovi e questo ci fa molto piacere Cosa vuol dire però essere una torrefazione artigianale di eccellenza come la vostra in un territorio dove ci sono invece grandi torrefazioni industriali? Vuol dire fare la differenza Oggi piccole realtà come la nostra sono rimaste veramente in poche Però la cura che riusciamo a dare nel nostro prodotto, nella tostatura di piccole quantità di caffè riesce a dare la differenza, quindi si riesce a sentire la fragranza di un caffè appena tostato Grazie Paolo, buon Terra Madre Salone del Gusto E ci vediamo per un caffè Va benissimo, grazie